Andando nel bosco con il bisnonno, gli cade un ramo d'albero, si ruppi una gamba. A quei tempi due erano i mestieri che potevano fare. O facevano i sarti o facevano i calzolai. Mio nonno fece il calzolaio. Una grande storia comincia spesso da un evento casuale e se il lavoro di famiglia era fare scarpe, lo si deve a quel lontano incidente occorso al nonno. Ma se quell'attività è poi diventata un impero da 400 milioni di euro di fatturato, il merito è tutto suo. Giancarlo Zanatta, fondatore del gruppo Tecnica, oggi ha 81 anni e, spornato dai figli e nipoti, ha deciso di mettere nero su bianco la sua storia. A Palazzo Giacomelli la presentazione del suo Diario del Fare, un contenitore di storie di lavoro e di passione. Raccontati in modo così lucido e preciso da colpire anche lo scrittore milanese Federico Buffa, uno che di storytelling se ne intende. Abbastanza significativo di un uomo che non è mai stato realmente, credo, piccolo. È stato un uomo che è stato costretto ad essere maturo, molto in fretta. Veloce come l'apprendistato in una fabbrichetta di scarpe a Treviso per far pratica, poi la scuola a Milano, poi l'esperienza del lavoro sotto padrone, che però non faceva per lui. E disse mio fratello, guarda, qui dobbiamo sviluppare questa azienda. L'esperienza di un po' di mestiere, intraprendenza, sono partito e siamo partiti e anno dopo anno abbiamo fatto quello che abbiamo fatto. Passione e determinazione, fino al colpo di genio, la conquista della Luna. Nel 1969 Zanata è a New York per affari e rimane impenotizzato alla vista di una delle numerose foto che celebrano il tirionfo dell'Apollo 11. A colpire la sua immaginazione è quell'impronta lasciata dagli scarponi degli astronauti sul suolo lunare, così ovale, così insolita. Subito l'intuizione, gli schizzi su carta, la realizzazione. Nasce il Moon Boot, il doposci per eccellenza. Prodotto in 25 milioni di paia, icona del stile esposta anche al MoMA di New York. 50 anni dopo quella storia continua, sotto la guida del figlio Alberto, ma lui in giro in azienda se lo fa sempre. E a chi gli chiede quale sia il segreto del suo successo, risponde con una sola parola. La passione.